Benvenuti a Radio Puginon Air, bentornati ad una nuova puntata. Allora, oggi ci immergiamo, stavolta direi lo facciamo letteralmente, nei misteri di un affondamento che ha lasciato più di un segreto sul fondale del mar Mediterraneo e parliamo del super yacht Bayesian, una vicenda naturalmente tragica che riguarda questa lussuosa imbarcazione che era considerata un'imbarcazione inaffondabile e che invece ha trovato il suo destino tragico il 19 agosto scorso, qui a Radio Puginon Air ne abbiamo parlato molto spesso, cercando di darvi tutti gli aggiornamenti sul caso, un affondamento avvenuto, si presume, durante una tempesta a largo della costa di Porticello in Sicilia. Abbiamo detto, sì, inaffondabile, no? Questo è quello che si pensava. Eppure, è il 2024, ci chiediamo come sia possibile che un colosso del mare, progettato per resistere a tutto, sia finito in fondo al mare in una notte di tempesta. Ma c'è di più. Con lui sono affondati anche i segreti di un uomo molto particolare, un uomo che sappiamo tutti è conosciuto a livello mondiale. Oggi Nicola Porro ha fatto vedere nel suo programma delle immagini esclusive dei sommozzatori che sono scesi fino al reglitto per scoprire cosa si nasconde al suo interno. Ma prima di entrare nei dettagli, dobbiamo farci una domanda, secondo me. Siamo davvero di fronte ad un incidente? Oppure c'è qualcos'altro che non sappiamo sotto? Perché ci sono tante ipotesi diverse su questo affondamento. Partiamo dai fatti. Il Bayesan affonda il 19 agosto del 2024 durante una tempesta che colpisce la costa di Palermo. una tempesta che alcuni dicono sia un tornado, altri invece un altro tipo di tempesta che in pochi secondi praticamente scarica un'energia di vento, un'energia che può davvero ribaltare anche un'imbarcazione del genere. Insomma, varie ipotesi che abbiamo visto in questi ultimi mesi, ormai. Sono state sette delle vittime in tutto, un numero tragicamente alto, considerando che si trattava di una barca all'avanguardia, dotata delle tecnologie più avanzate. Ma allora, come si è arrivati a questo punto? Fin dall'inizio si è parlato di un albero maestro che potrebbe essere stato spezzato dal vento, dunque un evento catastrofico che avrebbe causato l'affondamento della barca. Eppure le prime immersioni hanno smentito questa teoria. Il grande albero, infatti, è stato trovato sul fondo, ma ancora perfettamente ancorato allo scafo. Dunque non si è spezzato nulla, niente che è crollato. Allora, cosa ha causato questa tragedia? E qui le cose cominciano a diventare interessanti e un po' sospette. Ma la vera storia, come spesso accade, potrebbe essere un'altra. Perché Mike Link non era solo un magnate qualsiasi, ma era una figura controversa, un genio della programmazione, famoso per i suoi lavori nel campo della sicurezza informatica. E attenzione, non parliamo di un esperto qualsiasi, insomma, parliamo di Link che aveva lavorato a stretto contatto con i servizi segreti, ma di varie potenze mondiali. Si dice che possedesse un hard disk segreto a bordo dello yacht contenente informazioni riservate che per nessuna ragione dovevano essere rivelate. Allora, ora ditemi, cioè, non è che forse questo affondamento così improvviso e misterioso ha a che fare con qualcosa di più grande. Questo molti se lo domandano, ma noi abbiamo così poche informazioni, no? Per farci un'idea di ciò che potrebbe essere davvero successo. potrebbe esserci dietro un tentativo di mettere a tacere informazioni pericolose. Non è una teoria così folle, se pensiamo a quanto potesse valere quel contenuto, magari per loro, no? Per gli stati. A noi, insomma, non so quanto ce ne può importare, però le immagini che, perché di questo si parla, che Nicola Porro ha mostrato in esclusiva su Quarta Repubblica, ci permettono di dare uno sguardo dentro il relitto e questo è molto interessante. I sommolzatori che si sono spinti fino alle viscere del Baiesian esplorando gli interni ormai sommersi. si vedono chiaramente parti del ponte superiore, le scale che conducono alla parte inferiore, frammenti dell'imbarcazione che lasciano intuire l'opulenza di quello che, fino a qualche mese fa, era un simbolo di lusso e potere. Ma c'è di più, i misteri che circondano l'affondamento non riguardano solo l'albero maestro. Come vi dicevo, ci sono ancora molte ombre sul famoso portellone di poppa che dicono potrebbe essere rimasto aperto. Alcuni hanno ipotizzato che fosse rimasto aperto durante la tempesta permettendo all'acqua di invadere l'imbarcazione e farla colare a picco. Eppure, le ultime indagini sembrano smentire anche questa teoria. Dalle informazioni ora disponibili pare che quel portellone fosse chiuso al momento dell'affondamento. Allora, di nuovo, la domanda è cosa ha davvero portato il Bayesan sul fondo del mare? La vicenda si fa sempre più intricata. Siamo davanti ad un classico caso in cui le risposte non arrivano mai ogni nuovo dettaglio poi solleva altre domande su altre domande come spesso accade nei casi in cui le cose sono complicate. Ecco, questi sono mozzatori che ci ha fatto vedere Nicola Porro con le loro telecamere subacquee ci stanno restituendo immagini che fanno immaginare il tragico epilogo di una storia che è molto più complessa di un semplice incidente in mare. Cosa c'è realmente dietro l'affondamento del Bayesan soprattutto quali segreti riposano ancora sul fondo del Mediterraneo non lo sappiamo. Non dimentichiamo che Mike Link che non era un uomo qualunque le sue collaborazioni con i servizi segreti di diverse nazioni rendono questa vicenda ancora più oscura. Si tratta davvero di un incidente causato da una tempesta improvvisata o c'è qualcos'altro? Vi lascio con questa domanda. I segreti che giacciono in fondo al mare Mediterraneo sono destinati a rimanere lì per sempre o qualcuno un giorno troverà il coraggio di riportarli a galla. Fateci sapere cosa ne pensate sia che mi state seguendo in questo momento in diretta in live su YouTube sia che state ascoltando questo episodio nel nostro podcast che trovate in tutti gli store. Grazie per averci ascoltato al prossimo episodio di Radio Puggino Nero.